Rispondendo all'appello dei movimenti nazionalisti di estrema destra, migliaia di persone sono scese in piazza ieri in Polonia per protestare contro l'afflusso di migranti dal Nord Africa e dal Medio Oriente. A Katowice, nel sud-est del paese, hanno sfilato in 3.000 nel centro cittadino, scandendo slogan ed esibendo cartelli a sfondo razzista. A Varsavia, un'analoga manifestazione raccolto circa un migliaio di persone. A scatenare le proteste, l'impegno del primo ministro Eva Kopacz ad accogliere fino a 7.000 rifugiati entro il 2017. All'indomani delle manifestazioni, Kopacz ha partecipato a una campagna di segno opposto, unendosi a centinaia di volontari per cancellare le scritte razziste e antisemite comparse ultimamente sui muri della capitale. Un'iniziativa tesa a dimostrare che esiste anche una Polonia solidale e responsabile.